Buonasera a tutti, non so se ancora ci vedete o no, siamo qua, non so se mi vedete. Ok Chiara, si va. Benissimo, buonasera a tutti, oggi vi presentiamo i progetti K210 per il settore scuola e cambiamo qua la dottoressa Grimaldi che è la nostra autorità nazionale per il conto del Ministero dell'Istruzione e del Merito che facciamo partire subito a portervi i suoi saluti. Lascio la farà alla dottoressa Grimaldi. Grazie, allora salve, io vi porto i saluti dell'autorità nazionale, la dottoressa Simona Montesarchio e del dirigente dell'ufficio quinto, il dottore Andrea Bollini e ringrazio l'Agenzia Nazionale per il supporto in effetti che fornisce beneficiari e per avermi invitato a prendere parte a questo incontro oggi. e incontro insomma che mi auguro essere fruttuoso per tutti i partecipanti e che insomma alla fine del quale vi sentiate tutti incentivati a presentare una fantastica proposta di sovvenzione. e nel ringraziarvi insomma per aderire a questa iniziativa io vi auguro un buon lavoro. Grazie. Grazie mille dottoressa Grimaldi, io sono Chiara Falchi dell'ufficio partenariati su piccola scala K210 e vi porgo i saluti della dottoressa Sara Pagliai, la coordinatrice che per concomitanti impegni non è potuta essere presente oggi. e ugualmente la nostra funzionaria è ugualmente la nostra funzionaria la dottoressa Laura Nava che altresì non è potuta essere presente qui con noi. Iniziamo subito e vi presento quelli che sono questi partenariati, partenariati K210. Come ormai saprete il programma si struttura, il nuovo programma dal 2021 al 2027 si struttura in tre azioni chiave. La prima è l'azione chiave 1, mobilità individuale, la seconda sono i partenariati per la cooperazione, azione chiave 2 e l'azione chiave 3 invece riguarda quello che è il sostegno alla definizione delle politiche e alla cooperazione. Oggi appunto siamo qua per mostrarvi un attimo solo che si è bloccata la presentazione, bello della diretta. Vediamo perché. Ok, ora sì. Ora è ripartito. Esatto, siamo qua per i partenariati, nei partenariati della cooperazione. Due parole prima di iniziare con questo, come ormai saprete però è importante ripeterlo, quello che sono tutte le mobilità rientrano, mobilità con questo nome, rientrano nell'azione chiave 1. La mobilità degli alunni rientra nell'azione chiave 1 e l'accreditamento riguarda esclusivamente i progetti per la mobilità e punto che sono l'azione chiave 1. Prima di presentare le candidature, quello che noi ci sentiamo di consigliarvi è sempre di controllare e avere ben presente quelli che sono i documenti principali, ovvero l'invito a presentare le proposte, la call for paper, e il documento, per esempio l'handbook per quanto riguarda l'azione chiave 2 e ovviamente la guida ufficiale al programma. Entrando nel vivo, i partenariati per la cooperazione, come sapete sono quelli dell'azione chiave 2, si dividono in due parti, i partenariati per la cooperazione, veri e propri, che sono i partenariati K220 e i partenariati su piccola scala, K210. Oggi in particolare vedremo proprio K210 e quelle che sono le loro peculiarità. E quindi perché fare un partenariato su piccola scala? Solitamente noi diciamo che questi partenariati sono rivolti a Newhammer, perché sono più semplici, hanno una gestione più efficace e anche dal punto di vista burocratico molto più gestibile, molto più semplice, adatto quindi a Newhammer e a organizzazioni con limitata capacità operativa. Ugualmente possono supportare l'inclusione di gruppi target con minore opportunità e anche in questo caso comunque sono sempre progetti che possono sostenere la cittadinanza europea attiva e quindi comunque andare ad elementare la dimensione europea. Quindi appunto hanno una gestione più semplice rispetto a un partenariato K220, ma ugualmente permettono di entrare nel mondo Erasmus e quindi dare un respiro a tutte le vostre organizzazioni. In questo senso appunto possono, può essere utile per scambiare pratiche, apprendere tra pari per sostenere quello che è lo sviluppo o il trasferimento e l'attuazione di metodi educativi. Allo stesso tempo potrete combinare le attività transnazionali e nazionali e quindi appunto il respiro europeo e consentire alle organizzazioni stesse di avere più mezzi per raggiungere anche persone con minori opportunità. Appunto in questo senso, sempre per attività transnazionali e nazionali, è chiaro che è importante la mobilità, quindi è importante viaggiare e uscire dal proprio paese, ma la mobilità in senso stretto non è il fulcro di questo tipo di progetti. In questo caso infatti se siete interessati esclusivamente alla mobilità vi consigliamo un'azione chiave 1. Nell'azione chiave 2 è chiaro che essendo progetti europei c'è comunque la parte della mobilità, ma deve essere funzionale al progetto, quindi che vuol dire che non deve essere una mobilità fino a se stessa, ma è importante che lavoriate insieme e che facciate attività appunto trasnazionale, ma per lavorare effettivamente insieme per un obiettivo comune. Su questo punto magari ci ritornerò un po' spesso in questa presentazione, però è la cosa più importante che contraddistingue l'azione chiave 1 dall'azione chiave 2 ed è bene sempre averla a mente, quindi anche in questo senso cercate di capire per stabilire quello che sarà il vostro progetto, la vostra scelta, come intendete vedere proprio la mobilità, nel senso se proprio deve essere quello il vostro obiettivo primario o appunto se deve essere funzionale a qualcos'altro. Andando avanti, vi mostro quelle che sono in breve le caratteristiche che deve avere un progetto di questa tipologia. Sono progetti rivolti a qualsiasi organizzazione che si attiva nel settore di riferimento, quindi chiaramente nel settore scuola per quanto ci riguarda. Il minimo sono due organizzazioni di due paesi diversi aderenti al programma, quindi sia gli stati membri UE, sia Norvegia, Islanda, Lihestan, Turchia, Serbia e la Repubblica della Macedonia del Nord. Per questi progetti non c'è un numero massimo di partner, la durata è da 6 a 24 mesi e le sedi chiaramente sono quelle dei partner. In casi del tutto eccezionali e se specificatamente giustificato e dichiarato in candidatura, si può anche accedere alle istituzioni europee. Per quanto riguarda la caratteristica che li contraddistingue nel nuovo programma, è quella del budget, ovvero il coordinatore del progetto, quindi chi presenta la domanda, attenzione, chi presenta la domanda all'Agenzia Nazionale, il coordinatore, riceve il budget intero dalla propria agenzia nazionale e lo ripartisce ai propri partner, in base a quanto previsto dalla candidatura. E questo budget sono due Lamsam, che saranno, vediamo dopo nel dettaglio, o da 30.000 o da 60.000 euro. Le scadenze per questa nuova call sono quella del primo round, come sapete bene, il 5 marzo alle ore mezzogiorno orario di Bruxelles, e il secondo round invece il primo di ottobre a mezzogiorno sempre orario di Bruxelles. La differenza dei round rende anche differente la data d'inizio delle attività. Quindi il primo round, i progetti inizieranno dal 1 settembre al 31 dicembre 2024, mentre per il secondo round chiaramente inizieranno dal 1 al 31 agosto del 2025. Dicevamo del finanziamento, questa è la parte da tenere più presente in assoluto, quindi che la candidatura, già in candidatura dovete prevedere una delle Lamsam, sceglierne una, quella che è più incline, più legata agli obiettivi che intendete raggiungere. Non è possibile scegliere 25.000 euro, 45.000 euro. Come vedrete dopo con la mia collega, la dottoressa Masserelli, come vedrete la candidatura stessa vi obbliga a raggiungere la Lamsam intera, altrimenti non vi porta avanti. Quindi pensate bene a quelle che sono le attività che intendete portare avanti, gli obiettivi del vostro progetto, quali obiettivi intende raggiungere e scegliete il budget di conseguenza. Vi ricordo nuovamente, perché questa è la differenza principale con i partenariati del vecchio programma, per quanto riguardava quelli magari rivolte alle scuole, di cui molti di voi avranno esperienza, in questo caso è il coordinatore a gestire l'intero finanziamento. Quindi se richiedete a noi, se presentate a noi la candidatura, sarete voi i coordinatori e quindi gestirete l'intero finanziamento. Come presentare questa candidatura? Quali sono le principali richieste? È importante che selezioniate almeno una priorità orizzontale e o una priorità specifica nel campo chiaramente dell'istruzione scolastica. Le priorità orizzontali del programma sono inclusione e diversità, transizione digitale, sostenibilità ambientale e cambiamento climatico e la partecipazione alla vita democratica. Mentre per quanto riguarda le specificità di settore, solo alcune, il sostegno agli insegnanti, dirigenti scolastici e le altre professioni dell'insegnamento oppure lo sviluppo delle STEM, dell'ingegneria, matematica. Quindi scegliere una orizzontale e una di settore. Per quello che riguarda invece le disposizioni nazionali, quelle del 2024 non sono ancora uscite, quindi abbiamo avuto le informazioni principali, ma sono ancora da confermare, e appunto sarà che anche per questo anno il primo round riceverà il 70% del budget, mentre la seconda scadenza, il secondo round, il 30%. In accordo appunto tra l'autorità nazionale, quelle priorità che si intendono portare avanti sono comunque l'inclusione sociale e la diversità, l'educazione digitale, l'educazione ambientale e la partecipazione civica alla vita democratica. Quindi comunque riprende le orizzontali. Sempre indicato in candidatura, cioè sempre indicato nelle disposizioni nazionali e nella guida al programma, vi ricordiamo che nei casi in cui ci sia un exequo dei punteggi, quindi sarà data la priorità in graduatoria ai progetti che abbiano ottenuto punteggi più alti nel criterio della rilevanza del progetto, poi impatto e infine qualità dell'elaborazione e dell'attuazione del progetto. Questo poi vediamo in seguito quando parliamo di come verranno valutati questi progetti. Quindi gli aspetti orizzontali, che in questo caso sono indicati come aspetti e non solamente come priorità, perché chiaramente come la Commissione ha consiglia di anche se scegliete come per esempio priorità orizzontale, l'inclusione e la diversità e il vostro progetto fosse incentrato su questa tematica, potreste comunque voler portare avanti un volerlo portare avanti in maniera sostenibile. Quindi comunque in maniera green è possibile farlo e questo si può comunque vincere dalla candidatura anche se non selezionate questa priorità. Ugualmente per quanto riguarda per esempio un progetto in cui scegliete un altro tipo di priorità, magari una priorità specifica per il settore scuola e comunque intendete portarlo avanti come magari utilizzando le piattaforme online e facendo scambi virtuali. Quindi tutto questo come aspetti orizzontali è possibile. Quindi la Commissione comunque consiglia di tenere presenti questi aspetti non solo come attività ma proprio come modalità di gestione dell'intero vostro progetto. attenzione per il 2024 abbiamo una nuova regola e su questo è proprio nuova non è mai successo finora però è riportata nella guida quindi attenzione e introduce un limite al numero di candidature in cui una organizzazione può essere presente non solamente per il settore scuola attenzione ma riguarda fa il conteggio di tutti quanti i settori quindi saranno 10 candidature al massimo per tutti i settori quindi scuola educazione degli adulti vet e gioventù tutti i settori 210 in cui potrete partecipare massimo 10 progetti ma uno solamente come coordinatore ovviamente questo per cercare di dare la possibilità a più persone di accedere al programma e non solamente sempre alle stesse diciamo organizzazioni quindi è importante che abbiate presente questa nuova regola proprio anche mentre selezionate i progetti a cui partecipare quindi che che vi sia chiaro fin dall'inizio perché chiaramente verranno fatti dei controlli per questo e in più come vedrete dopo nel modulo la candidatura stessa vi pone dei limiti come è questo modulo di candidatura lo vedrete nel dettaglio con la mia collega in questo caso io vi darò solo dei piccoli consigli su come improntare il vostro progetto quindi sull'ideazione perché cooperare con altri partner cercate di essere chiari su quelli che sono i bisogni del vostro progetto i bisogni comuni perché scegliete quel partner invece di un altro quali sono le peculiarità dei partner che andrete a scegliere e con cui comporrete questo progetto importantissima la pianificazione quindi quali sono gli obiettivi e i risultati che intendete raggiungere insieme e obiettivi attività e risultati attesi ovviamente devono essere chiaramente collegati tra loro e molto coerenti e come dicevamo prima legati anche al budget che andrete a scegliere quindi si deve vincere dalla vostra candidatura come e cosa è collegato e chiaro tra sé tra loro in questo poi vediamo quella che è proprio l'implementazione quindi è come intendete raggiungere questi obiettivi individuare quindi le attività specifiche e poi attenzione sempre al monitoraggio e alla valutazione sia in itinere sia in chiusura del vostro progetto quindi è importante fare quella che è un'analisi del progetto prevederla già quella che sarà l'analisi del monitoraggio del progetto perché chiaramente sapendo come eventualmente intendete riunirvi e valutare questo progetto e monitorarvi potrete anche andare a fare quelle che sono delle correzioni in corso però è sempre bene prevedere questo momento in anticipo e considerarlo in questo anche la conclusione del progetto pensateci fin da subito a quelli che saranno i risultati che intendete ottenere e l'impatto che questi avranno sulle organizzazioni coinvolte sul territorio se avranno una ricaduta a livello nazionale e internazionale e in questo la disseminazione e la valorizzazione dei vostri risultati come intendete farli conoscere con chi intendete condividerli quali materiali se intendete produrli e come saranno pubblicizzati e ugualmente la sostenibilità del vostro progetto se i risultati che avete ottenuto saranno sarà possibile farli utilizzare anche ad altri oppure se potranno mai essere di esempio anche ad altri sono tutte cose che chiaramente andrebbero previste fin da subito per fare un buon progetto e in questo chiaramente questi consigli che vi diamo è un po' quello che poi viene effettivamente valutato dai valutatori voi avete a disposizione vi abbiamo messo a disposizione e al termine di questa presentazione vi farò vedere dove tutti i materiali compresa la guida per gli esperti valutatori e quindi saprete quali sono di questi criteri che adesso vado a leggervi saprete come verranno valutati in base a che cosa quindi i progetti sono valutati in base a quattro criteri fondamentali la pertinenza del progetto che ha un massimo di punteggio di 30 punti la qualità dell'elaborazione e l'attuazione del progetto che ha un massimo di 30 punti qualità del partenariato e gli accordi di cooperazione massimo 20 punti e l'impatto massimo 20 punti quindi l'impatto che avrà il progetto quindi la fase finale di gestione ma soprattutto anche finale che avrà il vostro progetto in questo vi vogliamo consigliare e vi ricordiamo che la titolarità nella preparazione della candidatura e della gestione del progetto deve essere del coordinatore che presenta il progetto quindi non possono essere delegati a terzi compiti e attività principali come la gestione finanziaria i contatti con l'agenzia quindi i contatti con noi e i rapporti decisioni che incidono sul contenuto e sulla qualità dei risultati delle attività svolte tutte le candidature devono presentare contenuti originali redatti dal candidato quindi dall'ente stesso che presenta la candidatura e non possono essere pagate altre organizzazioni o persone esterne per redigere la candidatura questo anche ha logica nel senso che voi dovete fare una candidatura che si adatta per voi che sappiate quali sono i vostri bisogni i bisogni degli alunni i bisogni delle persone che intendete coinvolgere il perché fate questo progetto che non è semplicemente comprare un prodotto già fatto da enti e organizzazioni esterne a voi che magari preparano già questi progetti per tanti altri quindi e in questo ponete attenzione perché veramente si deve vincere dalla vostra candidatura che siete strutturata su di voi sui vostri bisogni e chiaramente altra cosa il rappresentante legale quindi della vostra del vostro ente nella vostra organizzazione il rappresentante legale rimarrà responsabile di tutti i risultati e della qualità delle attività realizzate sempre con molta attenzione fase di candidatura scegliete la durata più appropriata come avete visto il minimo è sei mesi per un massimo di 24 le proroghe sono concesse solo in casi davvero particolari motivati solamente per disastri naturali o cose comunque molto molto particolari quindi ponete fin da subito attenzione alla durata che intendete scegliere perché è veramente importante perché veramente viene valutata per noi le proroghe sono molto molto specifiche e casi rari eccezionali come dicevo prima per quello che riguarda un po' la scrittura della candidatura ugualmente la submission del modulo di candidatura deve essere effettuata dall'organizzazione coordinatrice e non da un progettista esterno appena l'esclusione questo è anche riportato dalla guida e chiaramente tutti i progetti verranno vagliati dalla piattaforma europea antiplagio che controlla chiaramente che non ci sia un doppio finanziamento andando più nel dettaglio come fare domanda il modulo di candidatura ci si accede attraverso l'account eulogin tutti i membri dell'organizzazione possono fare un proprio account eulogin ma quello che è importante è che abbiate l'OID relativo alla vostra organizzazione e il codice OID è unico non dovete prenderne altri se non siete sicuri se magari siete una scuola che ha avuto progetti o non sapete se la vostra scuola abbia mai avuto progetti con il vecchio programma vi consiglio di andare sul nostro sito sulla pagina come fare domanda che vedete vi ho messo il link qua e queste slide comunque vi saranno messe a disposizione poi sul nostro sito tra i materiali di questo infoday e comunque sul nostro sito sulla pagina principale ci sono tre sottosezioni sotto allo slideshow dove troverete la sezione come fare domanda vi parlerà vi spiegherà che cosa è un account e login in prima battuta scorrendo verso il basso dove c'è un banner rosso c'è scritto azioni gestite dalle agenzie nazionali cliccando lì vi spiegherà tutti i passaggi per ottenere un codice OID eventualmente non l'abbiate oppure sempre cliccando sul registra vi farà accedere alla piattaforma ODS dove potrete anche andare a cercare il nome della vostra scuola per vedere se effettivamente sono stati svolti dei progetti in precedenza o comunque se è già presente un codice OID vi dico questo perché è importante che il codice OID sia unico che non andiate a prenderne uno nuovo quindi controllate magari anche se la scuola aveva dei progetti vecchi magari aveva un codice PIC che non esiste più dal 2018 ed è stato automaticamente trasferito come codice OID e le trovate comunque sulla piattaforma ODS cercando il nome della vostra scuola quindi da lì potrete scoprire se ha mai avuto un codice PIC e qual è il suo codice OID è importante appunto che non ce ne siano doppi perché questo ci va ad incidere su tutta una serie di controlli che andiamo a fare andando a vedere quello che è stato un po' l'andamento di questi nuovi progetti con il nuovo programma vediamo che abbiamo sempre un continuo incremento speciale nel primo round di richieste di candidature ma come vedete a questo a questa continue richieste purtroppo è abbastanza stabile la linea degli approvati quindi purtroppo non facciamo non possiamo fare fronte per il budget che abbiamo a disposizione a tutte le candidature che ci vengono presentate il tasso di approvazione è circa il 10% questo proprio perché il budget che è stato assegnato a questa azione è un po' più un po' limitato ma questo cosa significa? questo significa che le candidature quando presentate la candidatura deve essere una candidatura più possibile corretta quindi i criteri che dicevamo prima mi raccomando deve essere sintetica ma deve essere molto chiara cercate di far comprendere bene il perché scegliete un partner il perché volete fare quell'attività e come quell'attività è collegata importante e coerente con l'obiettivo finale di questo progetto con i risultati che andrete ottenere con i risultati che andrete a presentare alla chiusura del progetto non date niente per scontato non vi preoccupate piuttosto che presentare una candidatura diciamo non perfetta al primo round avete la fantastica possibilità di due round per lo stesso anno quindi magari cercate di fare una candidatura più precisa più puntuale e presentatela al round successivo questo perché veramente ci troviamo a fare fronte e ad approvare solamente progetti veramente veramente perfetti o comunque scritti e portati avanti molto bene per fare questo per aiutarvi in questo noi abbiamo cercato e cerchiamo di rendervi tutti i materiali più accessibili in modo più semplice possibile per voi per andare a fare queste candidature in miglior modo e questa è la pagina principale del nostro sito come vedete ci sono queste sezioni come fare domanda che vi riprendevo prima eppure le scadenze in particolare vi segnalo l'esistenza della pagina risorse e strumenti che andando sulla sezione istruzione scolastica e poi cliccando su risorse e strumenti qua abbiamo messo i collegamenti a tutte le piattaforme che vi possono essere utili in questa l'European School Education Platform dove trovate esiste dal 2022 è a piano ritmo a piano regime è la piattaforma di riferimento per la scuola è quella che unifica i twinning e lo school education e è la risorsa da cui partire per comprendere queste tipologie di finanziamenti ugualmente che vi consigliamo in maniera più magari non è più intuitiva ma sicuramente vi è più utile la piattaforma europea dei progetti e dei risultati e la dissemination platform lì in base a come vedrete potete cercare per tipologia di progetto per tematica per priorità per punteggio di progetto che è stata a rapporto finale che è stato concluso potrete vedere avere degli esempi validi di tutti i progetti che ci sono attualmente in corso e quelli conclusi sempre anche proprio anche per l'azione 210 scuola in tutta Europa quindi non solo quelli coordinati dall'Italia in questo i twinning è da sempre invece lo strumento che vi può essere utile solo chiaramente per le scuole in questo caso perché la registrazione è legata a docenti e al mondo della scuola per accompagnare il progetto in tutte le sue fasi quindi anche eventualmente ricercare scuole partner in più ci sono i seminari internazionali oppure se volete delle informazioni su quelle che sono i sistemi educativi nazionali vi è anche la piattaforma Euroi10 sempre su risorse e strumenti come documenti che vi possono essere utili nella stesura del vostro progetto troverete anche come esempio il modello di convenzione quindi per sapere già quello che sarà poi la convenzione che andrete a stipulare con noi la potete già consultare e avere come esempio l'handbook che è fondamentale per quanto riguarda invece la gestione finanziaria di questi progetti delle Lamsam quindi tutto quello che riguarda il budget la guida anche alla comunicazione di questi progetti di come dovranno essere pubblicizzati e quello che sarà richiesto anche ai vostri risultati per essere pubblicizzati al meglio e ugualmente trovate in questo anche l'utilizzo corretto del logo del finanziamento esempi anche di monitoraggio di strumenti di monitoraggio e di valutazione e la guida per gli esperti valutatori tra i documenti ufficiali la guida degli esperti valutatori che vi nominavo prima la trovate comunque nella pagina risorse e strumenti mentre la documentazione di cui parlavo proprio all'inizio quindi di come documenti ufficiali li trovate chiaramente nella pagina documenti ufficiali e avete il regolamento e avete l'invito a presentare le proposte la guida e le disposizioni nazionali che stanno per essere pubblicate ancora non sappiamo quando ma sono in fase di pubblicazione i nostri contatti sono anche questi li trovate sulla pagina principale per comodità ve li ho riportati qui i nostri contatti diretti per le mail partenariati scuola piocciolendire.it oppure potete trovarci a ricapito telefonico secondo l'orario di helpdesk martedì e venerdì dalle 10.30 a mezzogiorno e 30 e mercoledì invece dalle 14 alle 16 il resto che vi ho messo in basso sono i nostri social e il riferimento alla posta generale nel caso abbiate domande che non riguardano quest'azione nello specifico io vi ringrazio spero di essere stata chiara e di esservi stata utile il più possibile e lascio la parola alla mia collega la dottoressa Barbara Masserelli che vi illustrerà quella che è il modulo di candidatura grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti